Musica Ben ritrovati con il Tg Venezia di Caffè TV 24. Nello scorso fine settimana un 39enne di Mestre è stato fermato a paese in provincia di Treviso da una pattuglia di carabinieri in servizio di controllo e prevenzione dello spaccio di stupefacenti. Nell'auto del veneziano sono stati rinvenuti 20 grammi di hashish, marijuana, un bastone telescopico lungo mezzo metro, un coltello e circa 500 euro in contanti. Per l'uomo è immediatamente scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, porto d'armi e violazione della misura di prevenzione dell'avviso orale, emesso a suo carico dalla questura a Lagunare. Dal momento in cui non si presentavano ulteriori esigenze cautelari però è stato poi rimesso in libertà. La droga e le armi in suo possesso sono state invece sequestrate. Sempre nei giorni scorsi a Mogliano Veneto i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Venezia a carico di un 43enne. L'uomo rintracciato e arrestato dovrà scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione, poiché è riconosciuto colpevole di reati in materia di stupefacenti commessi a Scorzè nel 2019. Cambiamo argomento per parlare dell'incidente in cui questa mattina sono rimaste coinvolte due automobili e un furgone. Erano circa le 9 quando nell'autostrada A4 tra lo svincolo di Spinea e l'allacciamento della tangenziale di Mestre in direzione Padova è avvenuto lo schianto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di mira che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e estratto il conducente dall'abitacolo della Volkswagen Passat. L'uomo ferito è stato stabilizzato dai sanitari del suo M118 prima di essere trasferito in ospedale. Inevitabili disagi la circolazione è rimasta bloccata durante uno dei principali momenti di punta. La polizia stradale a cui sono aspettati i rilievi del caso e il personale ausiliario autostradale si sono occupati della gestione del traffico che ha ripreso la sua normale circolazione al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della viabilità. Distano poco più di 65 km ma la differenza del reddito complessivo medio IRPEF dei contribuenti residenti in questi due comuni è enorme. A Mirano, il comune più ricco tra i 44 presenti in provincia di Venezia, ciascun contribuente residente dichiara un reddito complessivo medio pari a 25.771 euro. In quello più povero, ovvero Eraclea, solo 18.658 euro. Ad elaborare i dati e fare il punto della situazione è stato l'ufficio studi della CGA di Maestrem dopo aver preso in esame le dichiarazioni dei redditi 2021 in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra i 563 comuni presenti in Veneto, Mirano si colloca al 38esimo posto mentre Eraclea occupa la posizione 510. Come rilevato dalla CGA, nelle ultime posizioni della provincia di Venezia ci sono anche il comune di Chioggia con 19.608 euro, Caorle con 18.925 e Cavallino-Treporti con 18.798 euro. Va comunque sottolineato, spiega il presidente Roberto Bottan, che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario e da eventuali integrazioni, il reddito di cittadinanza, l'assegno unico e le pensioni di invalidità. Dopo Mirano, tra i comuni più ricchi, troviamo quello di Noale con un reddito di 24.548 euro, Porto Gruaro con 24.505 euro e Stra con 24.124 euro. Il comune di Venezia si colloca invece al settimo posto a livello provinciale con un reddito complessivo IRPEF medio pari a 24.058 euro. Considerando poi i comuni capoluogo di provincia del Veneto, Venezia occupa l'ultima posizione. Spostiamoci ora a Jesolo, dove ieri pomeriggio un centauro è caduto dalla sua moto dopo aver visto una macchina che stava uscendo dalla strada di casa sua. La sorpresa e lo spavento hanno causato l'incidente in cui l'uomo è rimasto ferito anche se sembrerebbe che le lesioni siano solo superficiali. Gli operatori del SUEM, accorsi sul posto per prestare soccorso, hanno trovato l'uomo in un profondo stato di agitazione. Fortunatamente tra i veicoli non c'è stata una collisione. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Jesolo per effettuare i rilievi del caso. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi per parlare dei risultati ottenuti dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziare di Treviso nell'ambito di un'indagine sulle truffe al superbonus 110%. I controlli hanno infatti portato a una serie di nuovi sequestri, 25 milioni di euro di crediti d'imposta e 2 milioni di euro fra conti correnti, immobili oltre ad auto di grossa cilindrata di proprietà di 5 indagati e di una società collegata al consorzio Casa Zero. Dopo i sequestri della scorsa estate, le indagini sono proseguite anche sulla base delle denunce presentate da circa 300 clienti del consorzio residenti in varie province del Veneto, tra cui Treviso e Venezia, sono risultate le città più colpite, ma anche della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte, che si sono rivolti alla Guardia di Finanza per chiedere di procedere penalmente nei confronti di quanti si erano impegnati a realizzare importanti lavori edili e che poi, in moltissimi casi, non avevano mai nemmeno iniziato. In tutto il Nord Italia sarebbero oltre un migliaio i clienti truffati, ma solo 300 di questi hanno sporto denuncia. Le Fiamme Gialle hanno quindi denunciato alla Procura di Treviso altri tre professionisti, un direttore dei lavori e due sottoposti che hanno collaborato con quattro società collegate al consorzio per aver falsamente certificato l'avvenuta esecuzione o la congruità dei lavori rendendosi corresponsabili dei reati di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Il consorzio e le altre quattro società coinvolte, invece, sono stati segnalati per violazioni alla normativa relativa alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Al momento, nel complesso, si sta procedendo nei confronti di sei persone fisiche e cinque società, alle quali sono stati finora sequestrati oltre 35 milioni di euro tra crediti e altri beni. E anche per questa edizione è a tutto, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione.